Cari amici, vi aspetto tutti il 6 marzo 2022 a Firenze. Alle ore 15.30 ci sarà un nuovo incontro, un seminario molto importante per leggere gli ultimi eventi che riguardano la visita extraterrestre nel nostro pianeta. Come tutti sappiamo, come molti di noi sanno, c'è un potere occulto, una elite segreta che sta cercando di portare avanti un progetto chiamato Nuovo Ordine Mondiale per il Dominio del Mondo. In questo scenario che ruolo giocano le civiltà extraterrestri? L'escalation che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni relativamente alle rivelazioni del Pentagono con rilascio di materiale di enorme importanza e di testimonianze veramente interessantissime da parte degli stessi piloti militari che sono stati protagonisti di questi eventi, come si inseriscono in questo grande scacchiere mondiale, in questa lotta palese ma anche occulta per governare il mondo? Dopo le rivelazioni del Pentagono, vari politici, senatori, deputati americani hanno iniziato a parlare sulla necessità di porre delle leggi ufficiali in relazione al problema dei non identificati, delle leggi che apparentemente nelle intenzioni vorrebbero divulgare al popolo e rendere noto anche alla politica delle verità che sono state nascoste da oltre 70 anni. È un nuovo inganno o davvero il mondo si avvia a conoscere la verità sulla realtà extraterrestre? Ci sono degli importantissimi ricercatori che non la pensano così. Pensano che in realtà siamo di fronte a un ennesimo inganno, il più terribile, per presentare al mondo questa realtà in una forma sempre deleteria, sempre minacciosa. Nel rilascio di questi importantissimi materiali dati dal Pentagono e resi pubblici attraverso dei ricercatori come Jeremy Korbel, abbiamo visto che c'è un importante filmato dove si vedono i misteriosi oggetti triangolari. Vedremo una rassegna molto interessante degli ultimi avvistamenti registrati in varie parti del mondo, anche in Italia, di questi misteriosi oggetti. È stata pubblicata su un social americano una incredibile serie di foto che ritraggono un UFO triangolare immergersi nell'oceano. Foto che sono apparse e subito dopo sono state ritirate. Fortunatamente, grazie alla velocità di alcuni attentissimi ricercatori, queste foto ne siamo potuti entrare in possesso. Perché sono state occultate? Cosa si nasconde anche dietro questo mistero? In questo straordinario incontro, amici, approfondiremo tutte queste tematiche, vedremo queste straordinarie immagini, discuteremo, analizzeremo, approfondiremo cosa si nasconde, cosa realmente sta accadendo dietro tutti questi eventi. Eventi amici che fanno parte di un processo inarrestabile che porterà anche l'umanità della Terra all'integrazione cosmica, all'incontro con le altre civiltà dell'universo. Per tutte le informazioni che riguardano la partecipazione in presenza oppure in streaming online le trovate in descrizioni al video e nei miei social. Vi aspetto tutti numerosi.